La febbre è alta, la corsa in ospedale, i tentativi disperati per salvarla, ma alla fine non ce l'ha fatta. Una bimba di due anni e mezzo di San Nicola è morta nel reparto di terapia intensiva del Vitofazzi di Lecce a causa di una grave complicanza dovuta all'influenza. La piccola, ultima di tre figli di una coppia, ha cominciato a stare male il giorno di Santo Stefano. I genitori l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli, dove vista la gravità delle condizioni, è stata subito trasferita in ambulanza a Lecce, dove il giorno dopo è entrata in coma. La morte sarebbe stata causata da una encefalomielite scatenata dal virus influenzale. A nulla è valsa la somministrazione di una terapia speciale arrivata dal bambin Gesù di Roma. In segno di lutto, nel piccolo comune Salentino, sono state annullate tutte le manifestazioni previste per oggi e spente le luminarie insieme all'albero natalizio.